Fantastico, se mi avessero detto all'inizio anno che avevano fatto questo, ci avrei messo la firma, è una gioia incredibile, ci siamo partiti, noi abbiamo impianato delle giornate, oggi, grande prova di tutta la squadra, sono stati uniti, non so cosa dire, è incredibile che durante la Serie A1, domani, ci siamo in A1, ma anche alla Coppa Italia, a questo punto ci proviamo, contofondi, provereci a dare vincisi, anche se sarà difficile perché non sono una grande squadra, ma domani che siamo arrivati qui, vedremo domani.